Per la stazione, che io non ti vengo a cercare di sicuro. Bello. Tutte quelle paure, tutti quei timori. E invece? Ma che cos'è? E mi carci. Ma parla, perché piaccia? Ma spica fisce. Ma in un momento tutti sono rimasti sorpresi. Non ti aspettavo. Ma poi? Hai visto come è stata buona con te la mamma? E bene saranno tutti come lei. Vedrai. Ti vorranno bene tutti. A presto, su. Stefano. Dicci. Qualunque cosa accada, tu avrai sempre fiducia in me. Che dici? Ma si capisce. Mi basterà guardarti negli occhi. Mi crederei sempre. Sempre. L'obbligo. Chi? Noi. Noi.